Buongiorno mister, cos'è che ti ha sorpreso in queste settimane da quando sei tornato? Nel senso che sei arrivato e hai detto da solo non basterò, però credo fermamente nella salvezza di questa squadra, l'hai ripetuto la settimana scorsa, nel vedere una squadra che fa due punti in sette partite, c'è qualcosa di più serio di quello che ti aspettavi quando sei arrivato? Avrei esaminato la situazione, la rosa, le condizioni fisiche, il covid che è stato, le possibilità, qualcosa è venuto a mancare perché non potevi aspettarti un rendimento così. Sicuramente la situazione è più complicata di come la potevo immaginare, però credo anche che sia vero che si è fatto due punti in sette partite, però vado anche a ragionare su quei due punti che sono state due mancate vittorie. Soprattutto la partita contro l'Udinese, due mancate vittorie significano invece che prendere due punti, quattro punti e significherebbe sì comunque una situazione complicata di classifica, ma una classifica totalmente diversa. È chiaro che quello che mi ha spinto è il gruppo che ho sempre avuto a disposizione, quindi sotto quel punto di vista avevo delle certezze. Nel momento in cui poi arrivi e cerchi di lavorare e migliorare, è chiaro che il risultato non è ancora ottimale perché è vero che abbiamo fatto solo due punti, però sono ancora fortemente convinto, soprattutto dopo la partita che abbiamo fatto contro l'Udinese, di poter raggiungere l'obiettivo. A volte si dice il destino nelle nostre mani, noi non lo possiamo dire perché bisogna che qualcuno la davanti molli nella posizione in cui siamo. Quindi che indizi percepisci dal campionato? Chi hai nel mirino? Oltre al Torino ovviamente che è quella che ci sta sopra. Ma io credo Paolo che la frase è giusta anche in questo momento, perché noi dobbiamo fare i punti a prescindere da quelli a cui vogliamo fare la rincorsa. La cosa più importante è il nostro cammino, la cosa più importante è che noi facciamo i punti. Poi quale sarà la squadra che perderà magari smalto durante questo finale di stagione, lo vedremo alla fine, ma non dobbiamo ricriminare su noi stessi. In questo momento, ripeto, tra la partita di Sassuolo e la partita di Udine e anche altre partite si sta ricriminando su noi stessi, è quello che non ci possiamo permettere. Noi dobbiamo pensare a fare i punti, noi poi, può succedere a qualunque squadra magari di incanalare, inserire un filotto di partite negative per far sì che poi ci possa far uscire da questa situazione. Ma è il destino nelle nostre mani, cioè nel senso che noi dobbiamo lavorare per fare i punti. Grazie a te. Buon pomeriggio, mister. Domani si torna in uno stadio, in un campo, in un impianto che evoca ricordi importanti dal punto di vista... Il Parma praticamente ha staccato il biglietto per la Serie A, lei ha costruito la sua storia anche dal campo. Non lo so se è il momento di pensarci e soprattutto se questa spinta emotiva può dare un po' di energia anche per andare in campo, non lo so. Ma io, se proprio vogliamo andare a ricordare quella giornata fantastica dove la squadra aveva compiuto un'impresa, perché in quella partita siamo andati in sera direttamente, la possiamo ricollegare al fatto che dobbiamo andare a fare un'impresa. L'impresa di oggi significa andare a fare i risultati per salvarsi per un obiettino diverso. Cambia l'obiettivo, ma la volontà da parte nostra deve essere quella di andare a Spezia ad affrontare una partita non semplice, perché in questo momento credo che lo Spezia, tolta la parentesi di Firenze, è una squadra che sta molto bene, e della squadra che sta giocando meglio a calcio nel nostro campionato. Però se proprio vogliamo fare una similitudine, se proprio vogliamo ragionare su quella fantastica giornata, dobbiamo ragionare sul fatto di ricompere un'impresa che non è solo in una partita secca, ma è con il raggiungimento dell'obiettivo. Ma ripeto, questo dobbiamo essere i primi noi a volerlo. Si gioca sempre per i tre punti, ma la posta in pario è evidentemente più pesante, diciamo così, dei tre punti. Ha lavorato su qualche aspetto in particolare in questa settimana che non sia la tattica. Mi riferisco, diciamo così, anche dal punto di vista dei singoli calciatori, ha fatto qualche discorso per motivare, perché l'esigenza del momento richiede comunque di dare in campo tutto. Ma non si sta lavorando sotto tutti i punti di vista. Si ragiona sul fatto che dopo la partita comunque c'era sconforto, c'era delusione. Però mi piace e dobbiamo ragionare in maniera positiva. Ai ragazzi gli ho prospettato quei 65-70 minuti dove ha fatto una partita straordinaria, dove si è creato tantissime situazioni da gol, dove le circostanze dei gol non fatti non sono di pesi solo di esclusamenti da noi e quindi ripartire da quei 60-65 minuti e, ahimè, eliminare quegli errori che ci stanno costando caro. Ecco, quindi sotto quel punto di vista noi possiamo lavorare e migliorare solo su quel punto di vista e dobbiamo farlo. Ciao, buongiorno. Dividendo la partita contro l'Udinese in due, i primi 65-70 minuti, sto a quello che hai appena detto tu, forse potremmo fare anche 60-30. Cosa salvi dei primi 60, cosa prendi di esempio dei primi 60, ma soprattutto cosa vi insegnano? Come la seconda parte? Io penso che la partita fatta con l'Udinese sia stata una delle più belle viste qui a Tardini da quando sono qui, perché veramente si è creato tantissime situazioni da gol con una squadra molto forte fisicamente e con due giocatori forti, anche tecnicamente, come De Paul. Cosa non salverei che fino all'episodio del primo gol, dove c'è stato un errore individuale, non c'era stata partita, non c'era stato nessun segnale che ci potessero creare qualche difficoltà. È chiaro che nell'errore poi bisogna ragionare, bisogna avere la forza di continuare a afferrare quello che stava facendo, indipendentemente dal fatto che in questo momento siamo in una posizione di classifica deficitaria, però l'aspetto mentale deve rimanere stabile nell'arco di tutta la partita, perché poi dopo il secondo gol, dove abbiamo commesso non tanto un errore singolo, ma un errore di reparto di linea, dove tra il primo e il secondo c'erano circa due metri e mezzo e tre metri, quindi una situazione che si poteva evitare, ma dopo il due pari si è avuto un paio di occasioni clamorose per portare a casa un risultato pieno. Quindi credo che noi dobbiamo ragionare sulla partita e basta. Che ti presenta delle difficoltà, perché ci mancherebbe altro? Abbiamo concesso dei cross, tanti cross, ma lì dove c'è un giocatore importante come Depol, se magari, visto che abbiamo preso sette cartellini gialli, magari uno si può spiegare anche per far uscire un giocatore. Detto questo, ripeto, dopo quella partita sono ancora più convinto, dopo la partita con l'Udinese, che possiamo ottenere il nostro obiettivo. È chiaro che bisogna affrontare le partite come si è fatto per gran parte di quella partita, e cercare di avere più determinazione e più fame per cercare di portare a casa un risultato. Che Spezia ti aspetti? Probabilmente sta facendo di più rispetto a quello che i comuni mortali, chiamiamoli così, si aspettavano da quella squadra. Io credo che non dobbiamo ragionare che stanno facendo un qualcosa in più, perché sennò toglieremo di valore a quello che stanno facendo. Lo Spezia e anche il Benevento, quest'anno mi ricordano, non è il primo anno, dove tutti quanti ci davano per spacciate, e invece noi andavamo a mettere in difficoltà tutte le squadre, perché magari si sottovalutava l'avversario. Noi questo non ce lo possiamo permettere. Se andiamo ad analizzare l'ultima partita dello Spezia in casa con il Milan, dove non c'è stata partita, dove le ha surcalsati, se si va a ragionare sullo Spezia, il Milan sembrava che la squadra predominante fosse lo Spezia. Detto questo, ripeto, nell'ultima persa a Firenze, ma credo che sia una squadra molto organizzata, un allenatore molto preparato, molto bravo, giocano con entusiasmo, giocano con coraggio. E la dimostrazione è che quando le cose van bene, magari si affrontano le partite in una determinata maniera. Quando purtroppo le cose non vanno benissimo, magari c'è meno fiducia, c'è più sconforto, e magari è come se si aspettasse l'episodio negativo. Ma noi dobbiamo ragionare in maniera positiva e cercare invece di andare alla ricerca dell'episodio positivo, perché anche il fatto di aver creato tantissime situazioni da gol e non aver chiuso la partita prima è un aspetto che va migliorato. Buongiorno, mister. Buongiorno. Oltre ai 60 minuti con l'Udinese, quello di buono che si è visto con l'Udinese, che cosa la fa essere ancora ottimista anche rispetto agli allenamenti e quello che vede tutti i giorni dalla squadra? Io credo che dal punto di vista dell'impegno quotidiano questi ragazzi non gli possono improvare nulla. Ci sono delle difficoltà di apprendimento, perché comunque il non capire la lingua, il non conoscere benissimo il campionato italiano, questo purtroppo lo si migliora con il tempo. Quindi sotto quel punto di vista non ho mai avuto segnali negativi da parte della squadra. Detto questo, su quello che si deve ragionare e poi la partita, perché la partita è poi lo specchio di quello che uno fa durante la settimana. E bisogna migliorare sotto alcuni aspetti, ripeto, perché stiamo buttando via, fino ad oggi, una possibilità di raggiungere un'impresa, ma credo che siamo abituati a compiere imprese. Ma questo sempre se passa da una convinzione nostra, sempre se passa dal volerlo a tutti i costi, magari di fare dei sacrifici, tra virgolette, sportivamente parlando, di fare un qualcosa in più. Perché in questo momento quello che si è fatto, che si sta facendo, non basta. Un'altra cosa, se ha visto un atteggiamento diverso da parte di tutti, più sul pezzo tutti, durante questa settimana, rispetto a quello che non era successo quella scorsa, e se ha visto la squadra in crescita dal punto di vista fisico anche? Sotto l'aspetto fisico, la squadra sta crescendo sempre di più. Sotto l'aspetto dell'impegno, non ho mai avuto segnali di non impegno. Quindi sotto quel punto di vista, da quando sono arrivato, la squadra si è sempre ben comportata, ripeto, in allenamento. Anzi, nella settimana più bella, poi il risultato è stato la conseguenza della partita di Bologna. Quindi è emblematico questo. Detto questo, ripeto, sotto l'aspetto della quotidianità, dell'impegno degli allenamenti, a questi ragazzi non gli posso rimproverare assolutamente nulla. Ma è una situazione importante, intensità negli allenamenti, per far sì che la condizione fisica possa migliorare, per far sì che magari poi errori di valutazione, errori singoli, vadano a diminuire. Se posso chiedo un'ultima cosa e credo che ti darà molto fastidio questo disavanzo nei calci piazzati, tra i gol incasciati e quelli fatti. Tra l'altro, notando e leggendo i convocati, vedo che domani fuori tre centravanti di Arvigno sono a casa, e quindi diventerà ancora più importante provare a pungere in quel modo lì. Sì, io credo che questo è un aspetto importante non solo per noi, ma per il calcio in generale, non solo per il calcio italiano. Le situazioni di palle inattive espostano gli equilibri di una partita, per il 70% o si sblocca il risultato o si pareggia le situazioni di palle inattive. E' chiaro che se si va a ragionare su quello che è successo ieri e stamattina in allenamento, c'è da ragionare in maniera pessimistica, ma io credo che quando succedono tutte queste cose ragiono sempre su un aspetto positivo. Innanzitutto che domani non devo avere una scelta di mandare qualcuno in tribuna, ma mi allaccio sempre anche al passato, dove ci sono state assenze importanti, noi su questo siamo abituati, la squadra ha sempre risposto da squadra, quindi il mio pensiero non è su chi non ci sarà domani, il mio pensiero è su quelli che domani saranno a disposizione, che sicuramente mi daranno la possibilità di fare risultato in un campo difficile, nonostante le assenze. Però è anche un premio a quei ragazzi che magari si allenano tutti i giorni, si impegnano, e magari anche loro meriterebbero di giocare un po' di più, ma in questo momento questo non è stato possibile, quindi è un'opportunità in più per loro, per far sì che dimostrino il loro valore, perché di valore qui ce ne sono, anche su dei giocatori che hanno giocato meno.